Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In FIPILI coda tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Sempre verso Firenze rampa di accesso chiusa per lavori in entrata a Livorno Porto. In A1 rallentamenti tra Calenzano e Aglio e tra Aglio e il bivio con la variante di Valico e la Quercia in direzione Bologna. Ancora verso Bologna chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Sulla statale 1 a Aurelia in direzione nord svincolo chiuso a Rio Torto e in direzione sud svincolo chiuso per lavori a Gavorrano. Sulla statale 3b Stiberina tratto chiuso per lavori tra Pieve Santo Stefano Sud e Madonnuccia Poggiolino in direzione Viterbo Terni. Sempre in direzione del raccordo Viterbo Terni svincolo chiuso per lavori a Canili. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!